Il design di interni è fatto di luce, colore e texture, condizioni di comfort ambientale e arredo. È l'habitat in cui viviamo. Questi i temi del workshop di infoprogetto dell'8 marzo 2016 a Milano a Palazzo delle Stelline. Il workshop design di interni ha portato in dote a più di 500 architetti presenti una serie di interventi e novità importanti in un settore che è al limite tra architettura e design e, come ha ricordato l'architetto Marco Piva, è campo d'elezione del Made in Italy nel mondo. Un workshop valevole per sei crediti formativi, un'occasione per conoscere le aziende migliori del settore, i nuovi prodotti e le migliori tecnologie del mercato. Xalta è un'azienda fortemente attenta alle esigenze dei designer e degli architetti. Non a caso il settore architettura e il settore eredamento sono due dei settori chiave proprio per la nostra società. Quindi il nostro obiettivo è quello di sviluppare sempre nuove finiture, nuovi prodotti per andare incontro alle esigenze di architetti e designer. Ecco perché oggi siamo qui a questo evento proprio per presentare delle nuove collezioni, delle nuove finiture, dei nuovi effetti che sono proprio di supporto alla continua ricerca di innovazione da parte dei designer. Una su tutte è sicuramente la finitura soft touch, quindi questo effetto dal tatto vellutato permette di conferire al mobile in metallo proprio questo effetto molto vellutato, molto caldo al tatto ed è sicuramente un'innovazione in termini di finitura. Abbiamo visto che c'è una buona retention da parte degli architetti, dei designer e sicuramente continueremo a utilizzare questo tipo di eventi per presentare loro queste nuove finiture e continuare ad informarli su tutto ciò che verrà in termini di innovazione.